Ciao ragazzi, benvenuti, 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 in questo nuovo video ASMR. In questo secondo video voglio provare alcuni trigger. Un po' di tapping. Faremo anche un po' di brushing. E io partirei proprio da lui. Grazie. Grazie. Un po' di whispering. Grazie. 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 rilassiamo rilassati 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 parlamenta Rilassati 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 e l'uomo con tutta la rovessa 10 9 8 7 11 5 4 3 5 7 8 9 10 11 11 12 12 14 15 16